Se invece uno dice... ...non teneremo niente, non forza, non determinazione, non coraggio, allora è l'ideale, è forte, arriveremo alla vita! Siamo nell'Istituto Donizetti di Mirtocrosia, una scuola, una realtà che lavora a pieno ritmo e che continua a creare i presupposti di crescita e di sviluppo dei propri allievi. Non solo attività, dunque, di carattere curriculare, ma anche tante iniziative extracurriculari. In questi giorni sono attivi presso l'Istituto Musicale Donizetti degli Stagi, Stagi con il maestro Luca Pitteri e in sede a Mirtocrosia anche Michelangelo Tagliente. Insieme a noi, il maestro Tagliente, che è direttore della Melody School di Roma. La prima volta in Calabria, innanzitutto? Sì, sì, sì. Un rapporto con l'Istituto Musicale Donizetti, da Roma direttamente a Mirtocrosia, per avere un approccio diretto con gli allievi di questa realtà che sta diventando il punto di riferimento a livello territoriale. Sicuramente è importante la formazione italiana, poi specialmente poi nel campo musicale del canto pop in Italia. Il maestro Pitteri è uno dei coach più importanti che abbiamo nel panorama italiano nella formazione musicale, quindi mi fa piacere collaborare qui con questo istituto. E qui abbiamo anche il direttore dell'Istituto Musicale Donizetti, che sicuramente ci raggiungerà, Giuseppe Greco. Direttore Greco, allora, una serie di attività all'interno della struttura che lei guida, che lei dirige? Sì, questa è un'altra delle attività che abbiamo messo in cantiere per questo nuovo anno accademico. La presenza del maestro Pitteri ha già suscitato tanto entusiasmo e interesse nei ragazzi appena è arrivato. Ringrazio il direttore della Melody School che ci ha dato anche questa opportunità. Voglio augurare un buon lavoro anche alla nostra docente di canto, che in sinergia con il maestro Pitteri stanno cercando di dare questo tipo di approccio nuovo anche ai ragazzi con questo stage di canto e arricchendolo con tante informazioni e dei momenti di confronto. Ecco, uno stage di canto che è finalizzato ad approfondire meglio quella che è la disciplina, quindi il corso che i ragazzi seguono all'interno dell'Istituto Musicale Donizetti. Sì, è un vero e proprio approfondimento sulle tecniche di canto moderno. Come diceva prima il direttore Tagliente, è un momento di approfondimento sulla tecnica di canto moderno, sulle fasi della respirazione, su un nuovo modo anche di fare canto, insieme a una tecnica che in questo preciso istante il maestro Pitteri sta già spiegando e illustrando di là i ragazzi. Ecco, e dopo avremo il piacere di sentire anche il maestro Pitteri per capire da un punto di vista concreto come si sta interfacciando con i giovani allievi delle Donizetti. Maestro Tagliente, dunque una realtà innovativa per le nostre strutture, è un modo per offrire dei servizi validi alle varie strutture che operano nel territorio nazionale? Sicuramente, questo è certo anche perché la musica moderna essendo nata comunque da pochi anni, circa insomma 40-50 anni, ovviamente è importante saper esportare anche dalla propria città come Roma o magari anche Milano queste ovviamente tecniche innovative sul canto moderno dove comunque un luminale come il maestro Pitteri, eccetera, possono essere comunque ascoltate magari anche da altri docenti e comunque anche essere capiti e portare avanti ovviamente questa musica che comunque in Italia è nata comunque da poco visto ovviamente l'impronta classica che il nostro paese ha, insomma. Ecco, l'Istituto Musicale Donizetti offre questi corsi, diciamo erogate, questi corsi di canto, ma non solo. Sì, il nostro è un istituto convenzionato con il Conservatorio Torrefranca, abbiamo ultimamente ricevuto anche un'altra convenzione dove abbiamo la possibilità di far studiare qui giovani allievi per quello che riguarda un percorso preaccademico che è quello che precede, il percorso che precede poi l'alta formazione per l'ingresso in conservatorio. Quindi i ragazzi che hanno la possibilità di studiare per circa otto anni qui in sede da noi tranquillamente senza fare lunghi viaggi, con una formazione, ripeto, abbastanza intensa e seguita da quelli che sono poi i programmi anche ministeriali che noi abbiamo ritirato grazie alla convenzione, ripeto, con il Conservatorio. Ecco, questo è già un grande passo che l'Istituto sta muovendo dopo che abbiamo cercato di realizzare questa struttura che è nata nel 2006. Ad oggi contiamo un numero elevato di allievi, lo contiamo, ripeto, grazie alla preparazione, alla formazione che ogni giorno acquisiscono questi allievi e i frutti che stanno iniziando a dare questi giovani allievi, grazie anche a questa formazione, nel nostro territorio regionale ma che per poco io definisco ancora per noi un territorio regionale perché ci stiamo già affacciando a dei progetti più ampi che riguarderanno sicuramente la nazione e perché no anche l'Europa, di cui un'Italia che già fa parte, una Calabria che fa parte e quindi dobbiamo incominciare a vedere il nostro territorio, vedere i nostri concittadini ormai come fratelli dell'Europa, siamo tutti quanti ormai fratelli dell'Europa e dobbiamo affacciarci a questo tipo di confronto che è un confronto che io ci tengo a sottolineare, noi abbiamo evidenziato spesso anche col nostro presidente onorario, il maestro Antonella Barbarossa, che ci tiene tanto a dare uno sguardo più verso l'Europa, a dare uno sguardo verso un'Europa a cui noi possiamo arrivare, attingere e portarne dei frutti poi qui nella nostra Calabria. Il maestro Pitteri è sicuramente una grande vetrina, può essere per questi ragazzi una grande opportunità di confronto, ma nello stesso tempo i ragazzi in questo momento è come ricevere una vetrina dove farsi ammirare, farsi ascoltare da questo maestro e la possibilità di emergere in qualcuno di questi programmi televisivi piuttosto che etichette discografiche come quelle che dirige ad esempio il direttore Tagliente, avere la possibilità di approcciarsi al panorama nazionale con dei professionisti seri, validi e che noi da oggi sicuramente continueremo verso questa strada. Ecco un istituto musicale Donizetti dunque che si apre al di là di quelli che sono i confini regionali e nazionali ma apre le sue porte all'Europa, un'Europa che è fatta comunque anche come diceva lei anche dall'Italia, anche dalla Calabria, dobbiamo essere, dobbiamo comunque sentirci già a priori tutti più europei, un po' più europei e noi adesso ascoltiamo invece il maestro Luca Pitteri. Allora ecco con noi il maestro Luca Pitteri, maestro Pitteri coach vocale in ambito nazionale, dicevamo prima con il direttore greco che è qui a Mirto presso l'istituto musicale Donizetti, un primo importante approccio con questi ragazzi? Sì facciamo un incontro, è un incontro di confronto, adesso io ascolto loro se hanno delle domande da farmi, io cerco nel mio piccolo di fornirli dei consigli. Nello specifico su che cosa sta lavorando in questo momento nel Donizetti? Beh io sono insegnante di canto moderno, di conseguenza parlo di tecnica del canto moderno, le ascolto e quindi parlo anche del linguaggio comunicativo, interpretativo e gli do qualche consiglio su cui lavorare. Ecco qualche suggerimento in particolare eventualmente da dare anche ai nostri lettori di Ionio Notizie? Ah non lo so, se sono appassionati di canto o di informarsi e di ricevere più come in questo caso degli stimoli esterni da professionisti magari per età e anche per età di servizio più esperti che possano dare degli stimoli di ricerca. Il consiglio più grande è quello di cercare, studiare, approfondire. Chi è secondo lei il soggetto più indicato per arrivare poi a studiare in maniera approfondita il canto? Da che punto di vista? Da un punto di vista tecnico vale... Ci sono vari tipi di doti nel canto, ci sono quelli che hanno una struttura fisica particolarmente predisposta, non è detto che sia l'unica facoltà che sia richiesta perché molte volte molte persone dotatissime nel piano vocale non sono altrettanto vocale nella sensibilità interpretativa e nella sensibilità comunicativa quindi in quello che viene definita generalmente la personalità. È chiaro che se c'è un elemento che ha tutte insieme queste caratteristiche le probabilità che faccia bingo sono alte. Sono alte. La riavremo a Mirto? Nel Donizetti? Me lo auguro, dipende da voi se mi invitate. Un rapporto dunque diretto con il direttore greco, la sua scuola dicevamo prima continua a fare formazione. Beh sì, infatti è una giornata importante, tanto attesa anche per i ragazzi, anche da parte mia perché ho avuto l'onore di conoscere il maestro Pizzeri anni fa nelle selezioni di amici, è rimasto anche a me a cuore. Come dicevamo prima bisogna crederci nelle cose, bisogna tenere forte. Lui è qui anche con questo messaggio di motivazione anche nei confronti di questi ragazzi perché non bisogna fermarsi solo dietro a un talent, non bisogna fermarsi solo dopo al primo concorso di canto, ma bisogna credere, essere forti e dare il massimo di loro stessi. Ecco, oggi il maestro Pizzeri qui, fortemente voluto da me, dal mio vice direttore Salvatore Mazzei, dall'insegnante di canto Lucia che è di là dove si stanno anche confrontando con il maestro Pizzeri, ecco c'è la forza e l'entusiasmo di far crescere l'informazione, ecco la formazione perché più siamo, più sono informati, più ci sono i momenti di confronto e più c'è una crescita, abbiamo un aumento di crescita dal punto di vista qualitativo e quantitativo delle informazioni che diamo ai nostri allievi. Io intanto lo ringrazio il maestro Pizzeri perché è stato veramente, ripeto, qualcosa di molto molto importante per noi averlo qui, speriamo che ci saranno altre occasioni come avete detto anche voi e quindi gli lascio ancora un buon lavoro perché adesso andiamo a continuare di là il nostro session. L'attività continua dunque, un'azione come diceva il direttore greco, un'azione di informazione e formazione all'interno dell'Istituto Musicale Donizetti. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi.